Raga non fateci caso ma credo che mercoledì mi stia seguendo Ragazzi che cos'è quella cosa? Caspita è questa cosa Mi vedete con il camice? Perché ho deciso di analizzare le impronte digitali su questo voglio Seguite il mio ragionamento Wednesday si è firmata, vedete, qua sotto dice di essere mercoledì Ma chi dice che è veramente mercoledì? Non lo so e io sono uno scienziato Quindi potrei produrre una cosa per poter vedere le impronte digitali E dopo compararle con quelle della vera mercoledì Sarà una cosa molto divertente Significa ti ucciderò non cercarmi Allora io sto smaneggiando al computer Adesso fatemi comparare un attimo i risultati Qua probabilmente vedrete la foto che ho fatto dell'impronta digitale E ve la oscurirò chiaramente per motivi di privacy nel caso fosse di un'altra persona Qua tecnicamente cerco, sto cercando l'impronta di mercoledì Raga non potete capire E proprio lei corrisponde Il prossimo passo adesso è andare fuori a cercarla Se mi ha messo questo foglio sotto la porta Vuol dire che è ancora qui nei paraggi E quindi ora io posso andare a cercarla E voglio andare a cercarla insieme a voi Quindi E' assurdo Scompare sempre questa qua Ma raga io Allora io voglio andare a prenderla Cioè perché fa così? Perché? Come fa a scappare? Come ha fatto a scappare peraltro? Raga non fateci caso ma credo che mercoledì mi stia seguendo Secondo me utilizza qualche magia strana O qualche suo strano potere Perché magari non so non ce l'ha detto Raga mi pare di aver visto qualcosa qui Secondo me potrebbe essere andata qua Potrebbe essere andata qui Oh mio dio Questo posto è veramente segreto Potremmo farci un'investigazione una volta Non si vede niente Potremmo farci un'investigazione una volta magari Ma si vede lì in fondo? Che cavolo è? Oh non lo devo andare Raga non fateci caso ma credo che mercoledì mi stia seguendo Cosa faccio? Cammino? Facciamo finta di camminare adesso va bene va bene Allora tranquilli faccio finta di vloggare Ok Allora praticamente Raga io non so perché lei mi stia inseguendo Forse perché vuole documentarsi su di me Vuole capire chi sono perché ho iniziato a spiarla Può essere cioè ad indagarla Non lo so raga Ho paurissima perché non so che cosa aspettarmi Non so che cosa potrebbe fare E non so ancora se è dietro di me Vediamo ancora dietro di me Non riesco a vedere aiuto No 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 raga aiuto Ok tranquilli 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 Tecnicamente non ci sente Tecnicamente è ancora lontana In teoria spero Quindi io continuo così A camminare E faccio finta di niente Perché giustamente Io non mi faccio spaventare da mercoledì Anzi Sarò io che dovrei darle la caccia Solo che Come vedete I ruoli si sono invertiti Per un qualche motivo raga Cioè secondo me lei si è tipo arrabbiata con me Adesso ho paura che voglia tipo Uccidermi Cioè tipo Avete presente che fa tipo delle mosse di karate molto forti Ecco Cioè io ho paura Oh non è più dietro di me Aspetta Vediamo Credo che se ne sia andata È dall'altra parte È dall'altra parte adesso Sta continuando a seguirmi mercoledì È dietro di me raga Sento i suoi passi sempre più veloci Quindi adesso devo aumentare i passi Tecnicamente non si vede Perché proprio è dietro di me Io cerco di farvela vedere Ma è molto difficile Io devo cercare di entrare in casa Prima che Che mi faccia fuori Ok Tranquilli possiamo gestire questa situazione In modo magistrale Perfetto Quindi Come faccio però Che cos'è che potrebbe fare Ho un'idea Ho un'idea Ok Tecnicamente ora sono in casa E sono al protetto Lei aveva messo lì Vicino a quella porta Quel foglio Prima Ma come diavolo era entrata Io non vorrei che potesse Davvero entrarmi in casa Mi immagino durante la notte Che mi uscire Oddio 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 Mi state sentendo questo rumore No 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 qua sta succedendo qualcosa di davvero strano Io non credo che ci sia solo mercoledì Mercoledì non può fare quel rumore Almeno credo che non possa fare quel rumore Non lo so raga Ma che cavolo sta succedendo Posso usare la mia bacchetta magica Ok devo fare un incantesimo di protezione ora C'è qualcuno qui Non sembra esserci nessuno Per il momento Bene Credo che abbia scompitto Il demone Raga Qua Gatta cicova Io ve lo dico Non c'è purtroppo solamente mercoledì Ho questo strano presentimento E io e la mia bacchetta magica Riusciremo a trovare Che caspita sta succedendo In questo posto E soprattutto perché MetroDB ci sta accendendo il male E useremo la magia Per sconfiggere Mercoledì Ho deciso Mercoledì Sappi che ti darò La caccia